Procurate di diffondere l'amore. 25 ottobre 1972. Figli miei diletti, siate ben arrivati in questa mia casa. Ecco, vi accolgo vicino al mio cuore e vi partecipo la mia gioia. Dovrei dirvi anche il mio dolore per quanti sono assenti, e non parlo di coloro che impegni di famiglia o di lavoro trattengono, ma di coloro che volutamente vogliono essere lontani dal mio cuore che pure li ama. Parlo di coloro che mi addolorano col peccato, e che insultano Dio e i Suoi Santi con le bestemmie più orribili. No, non voglio addolorare il vostro cuore con tali pensieri, voglio farvi gioire del nostro incontro, perché da esso verrà giovamento anche agli assenti e ai lontani. Vi è stato detto che Pietro un giorno, rivolgendosi al Divin Maestro, che aveva istruito gli Apostoli su alcune verità, gli chiese, dobbiamo queste cose ritenerle per noi, oppure le hai dette anche per gli altri, e Gesù, con una parabola, fece capire che chi ha ricevuto molto dovrà rendere conto di molto. Quelle ricchezze spirituali che vengono a voi con la preghiera, con l'insegnamento religioso e anche con lo straordinario, non sono proprietà riservata, ma sono doni che ricevete gratuitamente, e altrettanto gratuitamente, con tanta fede e con cuore dovete donare. Ecco perché gioisco! È il primo gruppo che si riunisce qui, proveniente da quella città che un santo vescovo chiamò Città di Maria. Ma voi sarete la voce che chiama, sarete le campane che suonano, sarete le ancelle e gli araldi del Gran Re, che chiamano a raccolta le anime per una conversione più profonda, per una testimonianza più sincera in mezzo al mondo. Come farete, figli miei, a chiamare senza posa mentre tutti sono più disposti a deridervi ed a compiangervi anziché seguirvi? Figli miei, voi possedete dei mezzi che sono più squillanti delle campane. Voi avete le vostre sofferenze, le vostre lacrime, le vostre preghiere. Quando gli uomini sembrano sordi, non avete che da innalzare al cielo le vostre suppliche in questo senso, non avete che da dire dei nomi a Gesù e a me, e accanto a questi nomi, portare la vostra offerta. Vi è però una condizione indispensabile per ottenere, ed è questa. Voi dovete essere, e mantenervi costantemente amici di Dio, mediante la grazia. Dovete allargare il cuore perché in voi l'amore aumenti sempre più. Per poter beneficare, consolare, rendere buono il vostro prossimo, dovete anzitutto amarlo. Senza l'amore non si fa nulla nel mondo. L'amore è la vita e dove c'è amore si vive. Chi non ama, è nella morte. Figlio dell'odio e autore dell'odio è Satana. Chi non ama si mette inconsciamente nella sua strada. Dunque, figli, cominciate con l'amare tutti coloro che vi vivono accanto. Lasciate passare tutto ciò che torna a voi di offesa e di cruccio perché ferisce il vostro amor proprio. Cercate il bene di coloro che avete nel cuore perché legati a voi da vincoli di parentela o di amicizia. Quando nelle famiglie o tra parenti avvengono discordie o guai, gioisce il demonio, la cui arte è solamente quella di disunire per trionfare. Amate, poiché il centro del cristianesimo e il fine da raggiungere è l'amore. L'amore è Dio, chi è con lui non può perire. Procurate perciò di diffondere l'amore. Quando i lontani si accorgono di essere intensamente amati, riconoscono più facilmente i loro errori e ritornando a voi ritorneranno a me. Figli di Letti, avete visto quella rosa che durante il rosario ha lasciato cadere i suoi petali? Essi stanno ad indicare le grazie che io vi donerò per questa vostra visita. Abbiate fede, ritornate qui e fatemi conoscere. Fate che il vostro raduno di preghiera diventi sempre più numeroso, e le grazie pioveranno su voi e sui vostri cari. Io colmo di benedizioni i miei devoti e dono ad essi fervore di vita cristiana e santità. A tutti il mio abbraccio. Vi ho chiamato accanto al mio cuore non per tenervi per me, ma per portarvi dal mio figlio che vi ama infinitamente. Chi conosce lui e cresce in santità, gli assomiglia, ed io rivedo in ciascuno che lo ama, le sue fattezze, la sua immagine e moltiplico il mio affetto. Arrivederci, figli miei, e sempre più desiderosi di me. Grazie. Grazie.